benvenuti in questo nuovo video un video non è una sessione un video che spiega cosa bisogna fare chi fa metafonia o almeno chi è diciamo stato scelto per fare metafonia o meglio chi deve avere dei minimi requisiti per fare metafonia questa questa traccia audio è stata è venuta fuori qualche mese fa c'è una persona che mi ha chiesto se poteva fare metafonia io gli ho sconsigliato di no e le mie guide hanno dettato delle piccole linee guida che possono che possono servire a capire se una persona è destinato meno a fare metafonia poi spiegherò in dettaglio un po un po tutte le interazioni ricevute e insomma andiamo a schermo intero via che vorrebbe fare metafonia io ho sconsigliato questa cosa vorrei che rispondessero il mio spirito guida o le mie guide per piacere gli altri rimangono un attimino in silenzio vorrei una risposta chiara netta che cosa deve fare e cosa non deve fare allora chi si vuole approcciare a fare metafonia eccetera eccetera uno ce lo dice deve avere una guida un ministro e in questo caso il ministro è un santo infatti ti dice ti vuoi approcciare a fare la metafonia ok dopo ti diamo il santo molto chiaro dice famo funzionerebbe allora se c'è un santo dietro la metafonia dice ok funzionerebbe sì bene cioè nel senso sì ma ma viene deve essere fatta bene alla metafonia e poi c'è un requisito fondamentale secondo me soprattutto quando uno si approccia a fare metafonia gli dicono a me è stato detto tante volte in questi questi otto anni ma soprattutto all'inizio mi dicevano questa cosa luce tu fai tanta luce chi fa metafonia e non riceve un messaggio di questo genere che vi dicono non vi dicono che hai luce che avete una luce particolare cioè questa è la vostra anima che è molto potente molto probabilmente anche dipende da l'età che diciamo che ha la vostra anima e quindi ci deve essere luce cioè ok e poi la conoscenza esatta cioè io ho visto persone che fanno metafonia accendono la radio la fanno andare ma non sanno praticamente niente dell'aldilà non sanno niente dei piani astrali io sto imparando ancora perché vengono fuori nelle sessioni vengono fuori tantissime cose differenti di cui uno pensa uno pensa dice ah la persona proprio caro se ne va va nella luce tutti belli contenti felici e no non è così insomma è ci sono problematiche su ogni persona ogni caso è a sé ci sono problematiche di una persona che comunque è scomparso incidente oppure si è suicidato oppure per malattia oppure semplicemente ha avuto un orciopole nel senso una malattia tipo malattia insomma un arresto cardiaco eccetera eccetera cioè ci sono tante tipologie di per passare nell'altra dimensione quindi ci sono tante strade di tipologie per per andare intraprendere diciamo la luce la strada per andare nella luce e qua ci dicono conoscenza esatta quindi se non si ha una conoscenza esatta e spazia da energie basse a energie bidimensionali qui c'è poco da dire nel senso perché adesso ci dicono una cosa molto particolare dicono conoscenza esatta e poi ci dicono questo poi ridete ecco quel poi ridete ho sentito tante volte persone dicono io faccio metafonia non mi è capitato niente tu che ne sai che non ti è capitato niente magari intorno a te ci sono energie basse tu non le cogli tu non le percepisci tu non le capisci e parliamo di energie basse figurati se parliamo di essere bidimensionali oppure ancora peggio parliamo di demoni angeli caduti che sono lievi ciucciano l'energia sono lievi vi combinano la vita e voi pensate ma perché le cose succedono tutte a me oggi mi hanno rubato la macchina oggi me l'hanno graffiata oggi di qui oggi dirà e se fate metafonia questo è possibile e probabile ripeto possibile e probabile che determinate situazioni determinati della vostra vita arrivano dalla metafonia fatta e fatta anche male quel poi ridete sempre il fatto è anche questo io non mi è mai capitato niente nella vita sono tranquillo sono sereno arrivo dai messaggi eccetera eccetera poi bisogna vedere in un altro video avevo detto che bisogna vedere chi avete a fianco se non c'è il santo c'è un altro anima che potrebbe essere di basso livello che vi prende anche in giro cioè oppure io ho visto persone che facevano canalizzazioni eccetera eccetera dicevano io c'ho il maestro asceso pippi ripette nuse vicino a me ah sì mi fa piacere se sei convinto tu ho detto io c'è nel senso io voglio sempre vederci chiaro nelle varie istituzioni poi per caso non per caso vuoi che io vedo dei video di ipnosi regressive dove comunque c'è un caso analogo e simile di una persona che io faccio io di qua io di la e cioè a essere dimensionali come guide scusa è assurda questa cosa nel senso uno deve capire chi ha vicino chi è la guida deve fare tanti test deve fare tante prove deve capire tante cose cioè non è che uno accende la radio ripeto accende la radio arrivano messaggi che sono belli e dici a che bello messaggi su di vedere chi te li manda questi messaggi poi se lavorate da soli è un bel problema nel senso io ho avuto la fortuna di trovare una persona competente e dove sta nel al di là praticamente quasi sempre nell'arco della giornata e ce ne capisce qualcosa e io comunque ho fatto ho fatto controllare chi sono le mie guide chi non sono le mie guide insomma anche persone che comunque sono state a fianco a me sono state controllate che avevano di fianco vicino non tante belle animelle insomma anzi proprio anime non ce n'ero non c'era qualcosa di peggio beh comunque ognuno è libero di fare quello che vuole ognuno è libero di intraprendere le sue strade eccetera eccetera insomma e poi anche quel poi ridete nel senso che a me non mi è mai capitato niente quando poi vai nell'aldilà si è stato diciamo sfruttato facendo metafonia con esseri bidimensionali o energie più basse o angeli caduti ti ritrovi nell'aldilà e verrai fregato un'altra volta nel senso non andrai nella luce qualcuno ti ti fregherà perché sei stato fregato in vita e si ti fregherà anche di lì anche un'altra situazione può succedere calma non mi è mai capitato niente di qua di là tu vai nell'aldilà e chi paga paga a chi rimane di qua nel senso o tuo figlio tua moglie eccetera eccetera e ho visto anche ho visto insomma ho fatto tirar via dalla mia amica un demone da un bambino piccolo di tre quattro cinque mesi vedete voi questa persona faceva metafonia ha detto valla forse sarebbe meglio non fare metafonia con un bambino piccolo cioè mi sembra un po un lazzardo insomma bisogna fare metafonia quando si è tranquilli quando si è sereni quando quando non si ha nessuno a fianco che diciamo più debole di voi perché comunque prendono il punto più debole della maglia cioè della vostra famiglia eccetera eccetera insomma ci sarebbe tanto da dire ma non mi voglio prolungare non voglio che di questo video diventa lungo perché ma io in passato dato ho dato tante linee guida di gente che fa che vuole fare o verrebbe fare metafonia ma non lo so boh è che la gente non capisce che è pericolosa alla fine pericolosa io iniziato otto anni fa con me in un gruppo c'era tanto tempo fa che adesso questo gruppo è stato schiviato c'erano tante persone che facevano metafonia io iniziai a quei tempi e sinceramente di otto anni fa ci sono solo io ancora che fa metafonia gente ha smesso di fare metafonia perché sentiva le voci gente ha smesso di fare metafonia perché comunque aveva problematiche di vita non indifferente dovute sempre alla metafonia gente che si è ammalata gente che ma questo vale anche per la metà visione perché conosco so di un francese che faceva metà visione tutti i giorni arrivavano dei metà visioni molto belle molto precise lineamenti accurati e insomma si è ammalato e si è ammalato di un tumore adesso non so se se è guarito o meno non lo vedo più in giro comunque ma anche una grandissima italiana canalizzazione canalizzatrice italiana ha dovuto fermarsi perché gli è arrivata una malattia molto grave insomma e cioè bisogna capire che abbiamo a che fare con energie che sono diverse dalla nostra bisogna capire che ho visto uno studio fatto dagli americani perché gli italiani sono una marea di imbecilli io non ce l'ho con il ghost hunter perché vedono quello che fanno vedere alla televisione con ghost adventure e replicano con il k2 vanno in giro nei posti isolati eccetera eccetera uno studio americano ha fatto praticamente vedere che sia le anime che essere bidimensionali sono molto negative al nostro corpo umane perché emettono radiazioni e io ho visto quando voi vedete con il k2 che si accende la lucetta quella è solo un'interferenza elettrica o elettromagnetica insomma vabbè non sto qui a spiegare il senso io ho visto un un video e poi c'è stata anche la documentazione tecnica e scientifica con un contatore geiger in un posto isolato c'è stata fatta una mappatura al pomeriggio e poi di notte c'è stata questa indagine la mappatura di giorno non contava nessun tipo di continuazione sia elettrica che l'altro magnetica che anche di tra virgolette radiazioni alla notte quando erano lì che facevano tutti i loro test e le loro prove i loro esperimenti è saltato fuori che comunque c'erano in giro delle radiazioni queste radiazioni erano rilevanti e rilevate da anime basse angeli caduti cioè avevo postato in un documento molto interessante fatto dalla gran bretagna che aveva studiato la vicinanza corporea tra l'uomo e un essere bidimensionale e saltava fuori c'erano tutti i dati molto tecnici che diceva praticamente la stessa cosa che sono radioattivi c'è una sorta di azione che il corpo percepisce quindi il corpo si ammala per determinate ragioni poi metafonia o canalizzazione oggi domani dopo domani se non sei protetto non c'hai le guide non c'hai questo non c'è quell'altro eccetera eccetera e qui poi ridete insomma ecco e qua dice olmo lavorare un'oretta quindi avete il santo sapete che cosa state facendo eccetera eccetera con la conoscenza esatta la luce c'è è il santo lavora con voi un'oretta non di più cioè è meglio non fare metafonia di due tre quattro ore c'è insomma è in questo caso è e olmo che guida può essere poi pietro siro elmo pio potrebbero essere molte guide cioè tu hai un santo che ha una guida chi che sia e fai un lavoro di un'oretta e non di più insomma e poi una cosa molto importante solo gratis pace profonda e qui solo gratis ovviamente uno non è che dice a faccia metafonia sui 50 euro questo assolutamente no un conto è fare un listino prezzi un conto è una donazione e quella è un'altra cosa la donazione è un'altra cosa perché tu non hai un listino prezzi che ogni metafonia la fai pagare 30 50 100 euro perché va il tempo va l'ascolto va la corrente ci vogliono gli strumenti giusti e ci serve eccetera eccetera e quindi niente pagamenti infatti anche questa questa cosa una persona si è ammalata perché prendeva i soldi prendeva 150 250 euro a canalizzazione e poi dicono una cosa molto importante e secondo me e e precisa perché questa cosa io non l'ho mai fatta e la notte zero ho visto dei metafonisti perché si dicono si chiamano si si dicono loro che sono metafonisti non so c'è un giro un diploma non so boh e la notte zero perché la notte zero abbiamo sentito in varie in varie in varie sessioni che di là non vogliono che i nostri cari scendono di notte perché perché devo dicono la notte zero perché alla notte ci sono in giro demoni cioè angeli caduti energie di basso livello ci in giro tantissime energie brutte e insomma che vi possono fregare vi vi portano le anime per parlare questo è poco ma sicuro perché l'anima arriva lascia il messaggio e se ne va e poi rimanete diciamo dei vostri problemi che poi poi non sapete perché non capite non non riuscite a comprendere non riuscite a sentire non riuscite a percepire eccetera 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 insomma è la notte zero ho sentito vari metafonisti che dicevano a mi hanno consigliato di fare metafonia alla notte io ho mai fatta metafonia alla notte massimo massimo primo pomeriggio a me piace registrare al mattino 8 8 e mezzo sul presto insomma ma mai alla notte non ho mai registrato la notte in otto anni non ho mai registrato e poi bisogna essere felici bisogna avere pace profonda cultura eccetera eccetera insomma e qui niente finisce diamo a schermo intero insomma finisce questa questa linea guida che ci hanno dato le guide senso di parole insomma io non so che altro aggiungere poi se qualcuno ha domande nei commenti sia sul gruppo sulla pagina su sul sito su youtube dove dove volete o anche in privato se avete problemi domande più che problemi problemi dove dovete risolvere da soli conosco tanta gente che ha fatto metafonia che adesso non sta passando un buon periodo anche se aveva una minima conoscenza e insomma che volete è così niente questo era un video di spiegazione che parlava un po di che cosa ci vuole per fare metafonia non è che uno ripeto accende la radio escono le parole poi bisogna essere anche capace interpretare bene le parole perché poi se non interpretate bene le parole i messaggi quando di là ha detto ma come io ti ho dato il dono della metafonia tu non hai capito una massa ti dicevo ciao tu dicevi z cioè secondo me bisogna capire determinate situazioni bisogna capire tante tante altre cose insomma e niente magari se c'è nient'altro da aggiungere insomma egite le sessioni a me messe da parte per un attimo registrerò appena possibile che ho tirato fuori dei nomi dal gruppo e va bene così dai a prossimo che vorrebbe fare metafonia io ho sconsigliato questa cosa vorrei che rispondessero o il mio spirito guida o le mie guide per piacere gli altri rimangono un attimino in silenzio vorrei una risposta chiara netta che cosa deve fare e cosa non deve fare ok allora grazie a tutti Grazie a tutti